allora direi che possiamo adesso concentrarci nella fase di pool questo crossover ci ha regalato praticamente 15 giorni di free pool e noi ovviamente ne approfittiamo quindi se volete salutate pure youtube perché sto registrando per ricaricare il tutto su youtube quindi potete dire ciao mamma guarda come mi diverto oppure chiamare i carabinieri esatto e inoltre adesso io per il par condicio in questo banner dovrei avere almeno 25 stelle perché ieri abbiamo fatto la multivuota ieri io da questa multi ho fatto una multivuota quindi oggi minimo me ne devi dare due per bilanciare ieri giusto me ne devi dare almeno due almeno due per bilanciare per bilanciare ieri almeno due ok ho aspettato apposta per questa inter piccola interruzione pubblicitaria ok il parry c'è me ne devi dare due però no attenzione sephiloth però sephiloth ho la wing edge pronta per essere portata al massimo tra poco ho la wing edge pronta per essere portata al massimo vediamo se no ah ok 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 la mitri il type 0 va benissimo va benissimo qua ci starebbe tipo il tizio ci starebbe il tizio il bambino quello compito che fa con l'occhiei tipo così ok adesso ci facciamo questa che è una una cinque stelle garantita però potrebbero essercene di più quindi questa ce la togliamo come sfizio che poi di qua in realtà non è che mi interessa più di tanto però ovviamente l'animazione con la skin perché fa figo niente una precisa proprio bear cloud risicata 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 allora vediamo che cosa abbiamo organics beh niente di niente di straordinario però buoni bonus che giustamente ti hanno ti hanno dato con la multi quindi va bene così e adesso andiamo dai tickets andiamo dai tickets quindi amiamo se tante multi vuote di fila tu farai al calendario ti rivolgerai e tanti santi volare farai sì effettivamente potrebbe anche essere un'idea sì assolutamente sì ok ora qua me ne devi dare almeno 4 e 5 me ne devi dare almeno 4 e 5 fammi un bel dodge e mi dai 4 e 5 mi dai 4 e 5 armi va bene anche il parry lo accetto però è matt attenzione però è matt la slick beat oh no l'absolute royal minchia mi sembrava un'altra slick beetle mi sembrava un'altra slick beetle vabbè ora qui me ne darà altre due o tre mi dovete dare un bel malloppone di armi 5 stelle che è sta storia forza ne voglio almeno 34 così è giusto per antipasto che sto fatto che non escono le 5 stelle su esatto dai forza dai dai ok buono il dodge sì ok solo due di più me ne devi dare di più me ne dovete dare di più ne voglio di più io voglio di più però mette zac attenzione mette zac mi servirebbe tanto una copia della prime number è possibile va bene va bene basta chiamarle basta chiamarle basta chiamarle zac mi sta bene tutto in realtà zac mi sta bene tutto defender no vabbè defender non mi piace tantissimo però buono buono finalmente per matt ho l'over boost della prime number grazie a dio grazie a dio grazie a dio finalmente finalmente eh però c'ha heal come abilità primaria quindi non è che sia un granché ahhh non è detto però vediamo se facciamo il 9 se facciamo il fever no critico niente questa vuota male 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 qua me ne devi dare almeno 5 per pareggiare me ne devi dare 5 qua me ne devi dare 5 almeno 4-5 per restare in tema perché veramente va full water no guarda meglio una che niente però qui me ne devi dare almeno 4-5 per forza bellissimo dai mmm due minchia barrett e red però madonna allora barrett ok se barrett mi dà l'assault gun allora riproviamoci 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 allora barrett mi dai per favore l'assault gun no vabbè scusami scusami scusa non non insisto non insisto non insisto va bene così red in realtà non mi interessa nulla quindi ah è platinum collar però dai ok ok platinum penso che sia esatto quello probabilmente quello migliore che mi poteva uscire che almeno mi da regen a tutti quanti gli alleati che non ce l'avevo questo questo è comodo questo è molto comodo molto 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 comodo allora adesso vediamo adesso facciamoci un po' gli occhi rifacciamoci un po' gli occhi qua rifacciamoci un po' gli occhi dai su dai ovviamente schippiamo eris allora ci starebbe una copia della mitril in realtà una copia della mitril ci starebbe però esatto l'ombrella potrebbe fare la differenza qua ok 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 ecco ecco red non mi va bene sinceramente perché platinum l'ho preso ecco il seaside collar effettivamente potrebbe essere un'altra valida alternativa no il gold no ah il junk collar skip totale non so cioè manco ce l'avevo quindi ah ok però vedi attacco magico diminuito ok può essere un altro dei tanti ma sinceramente ho di meglio sinceramente ho di meglio lucia amore mio il v39 ok non mi ricordo se già ce l'avevo il v39 sì ce l'avevo dai voglio qualcosa di più ciccioso datemi qualcosa di più eh vabbè cloud vestito così giusto per il meme con cloud murasame no no butterfly edge mmm non mi piace tantissimo non mi stanno andando bene sti ticket eh non mi stanno andando bene tranne la mithril rod che comunque sia è già qualcosa tifa madonna ti prego tiger fangs è possibile avere le tiger fangs vedi vedi più mi gufate e più io sculo più mi gufate e più io sculo perché il karma funziona così il karma funziona esattamente così più mi sfigate cioè più mi gufate e più io vi pullo in faccia la roba buona minchia zack con cloud vestito e che cos'è un'altra falchion ah no minchia l'arc sword aspetta ma ce l'avevo forse no infatti l'arc sword non ce l'avevo ancora di zack forse io lo giungo in post produzione tipo il tipo con ok ora questi altri ticket li puliamo dopo facciamo le coop e poi prendo i punti per scambiare i ticket e li puliamo dopo ok altri 10 ticket nella speranza di trovare qualche cosina dai dammi una bella multità da sette da sette armi dorate tipo whether tutto tutto dorato così bello sì 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 ci credo ci credo Culaone, culaone, culaone. Allora, di Lucia. Allora, Lucia, c'è un'arma che in realtà mi interesserebbe con overboost. Ovvero il Mad Minute. Anzi, sì, il Mad Minute. Mi dai l'overboost, per favore, per il Mad Minute? Madonna. Il Bold Eagle ancora. La Bold Eagle ce l'ho quattro overboost adesso. Così, giusto per dire. Vabbè. C'è l'unica arma che avevo già forte di Lucia, diventa ancora più forte. A me comunque sia, i ticket quattro stelle mi danno una sfiga pazzesca. Quindi, io non ci credo neanche più di tanto. Cominciamo malissimo. Cioè, vabbè, oddio. Dai, Cloud, dammi otto cinque stelle, per favore. Dammene sette, otto. Minchia, è allucinante. Vedi? Sti ticket quattro stelle mi portano una sfiga allucinante. E' incredibile. Cioè, i ticket quattro stelle più per me non esistono. Esistono solo quattro stelle. E' veramente allucinante sta cosa. Grazie. Grazie. Grazie.